Il rosa è il colore della prevenzione e anche quest'anno Avellino si tingerà di rosa in occasione dell'ormai tradizionale camminata. Conferenza stampa di presentazione questa mattina al circolo della stampa di Avellino per definire il programma della camminata rosa giunta ormai alla sua quarta edizione. Oggi è la giornata in cui presentiamo la camminata rosa che si era fatta il 24 di settembre. I soliti appuntamenti si parte da Mercogliano e si arriva ad Avellino con la messa quest'anno al rosario e finiamo praticamente con l'angelo dei palloncini che sarà fatto in piazza. La manifestazione a supporto delle donne operate di tumore al seno è in programma per domenica 24 settembre da Mercogliano in via San Modestino e proseguirà fino ad Avellino in corso Vittorio Emanuele. Quattro chilometri da percorrere per le migliaia di donne ma anche uomini che ogni anno scendono in piazza per ricordare la loro vicinanza che ha combattuto contro il cancro e spronare tante altre donne a fare prevenzione. Un momento straordinario, ringraziamo tutte le volontarie dell'AMDOS che rendono un servizio straordinario, chiaramente coordinato dal dottore Carlo Iannasce. Ormai è qualche lustro che questa prevenzione va avanti, una prevenzione fondamentale che salva tante vite umane. L'iniziativa anche quest'anno è promossa dalle AMOS e dalle AMDOS Irpine e si concluderà con la messa di mezzogiorno nella cattedrale del capoluogo irpino e con il tradizionale lancio dei palloncini, anche questi rigorosamente rosa. Come sempre le amministrazioni comunali hanno rinnovato la loro vicinanza alla manifestazione.